ciao marco c'è che siamo qui due microfoni riprendono una cosa che è qui si no me già da trovano più della tua musica come ti chiami tu? Marco Galli di dove sei? Sanremo ha fatto molta strada per venire poca 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 Sanremo pochissimi per la prima volta veronica veronica e di cognome come fai? iop allora allora sentiamo questo intanto marco galli cosa metto la base base a redronni cosa scegli cosa fai cosa fai questo ok canta sulla base vai marco grazie grazie al bivio stai a ritrovarci si ti accorgi che tutto appare sbarrato sembra ora che si va no no non si può grazie insieme a me è difficoltoso perché sai dove vai così sostieni insieme sento i tuoi discorsi bla 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 ma sai che tutto sembra difficile è tutto da superare ma lo sai che alla fine basta poco basta poco di più e di cosa fare di te pensa con il cuore cosa farai cosa farai ti domanderai risposta risposta c'è forse sta dentro di te sembra ora che si va si si che si può musica musica è questa vita in te entra dentro di te e tu la accetti cantar per la tua libertà libertà ma sai che ma sai che tutto sembra difficile è tutto da superare ma lo sai che alla fine basta poco basta poco di più e di cosa fare di te pensa con il cuore ma sai che tutto sembra difficile tutto sembra difficile è tutto da superare ma lo sai che alla fine basta poco basta poco di più vedi cosa fare di te pensa con il cuore guarda la sintesi è in un commento bella voce intonato ma i testi i testi i testi fanno schifo no cioè te lo dico proprio devi cominciare a lavorare il testo la canzone non è una prosa ma è una poesia il testo è banale con vabbè tu devi scrivere un concetto poi lo devi trasformare in poesia o farti aiutare a trasformarlo in poesia perché il testo basta poco ma è una roba proprio improbabile perché c'hai la voce c'hai tutto e tu suoni suoni dal vivo? chitarra no suoni dal vivo fai dei concerti fai delle esibizioni ogni tanto sì ogni tanto sì ne devi fare di più devi fare di più non solo te chitarra per amici devi andare oltre devi conquistarti un posto in un locale devi vedere la gente che non gliene frega niente di te te la devi conquistare questo questo devi fare e poi il testo è una roba improponibile credimi improponibile quindi ci devi lavorare parecchio ti devi lavorare o farti aiutare non è mica necessario che scrivi tu i testi eh c'hai una bella voce cavolo ok? grazie importante quello che questo è cioè concordavano tutti poi vedrai vedrai la tua esibizione su facebook e vedrai che quello che ti ho detto è tutto grazie 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 grazie